Il sindaco a San Pio delle Camere rivive un'antica tradizione che è quella dello zafferano, ancora attuale pur tra mille difficoltà. Sicuramente, è un'attività che comunque qui si tramanda da centinaia di anni, è stato il motore trainante dell'economia del passato e oggi purtroppo si hanno delle produzioni irrisorie. Noi cerchiamo con queste manifestazioni comunque di sensibilizzare i giovani per riportarli alla coltivazione di questa essenza che comunque ci ha fatti conoscere nel mondo. Infatti, basti pensare che Walt Disney conosceva lo zafferano dell'Aquila, il topolino che doveva fare il risotto infatti ha menzionato il nostro zafferano come il migliore al mondo. Noi vogliamo cercare di riaumentare le produzioni, di farci conoscere di nuovo nel mondo con questo prodotto.